l'autocollo l'ho detto l'autocollo la vittoria è giustamente conquistata andava lì perché mi ha fatto sono queste fabbio le vittorie che danno più fiducia quando si pensa di essere in difficoltà di non riuscire a rimontare una partita e invece poi alla fine ce la fai la nostra telecronaca termina qui grazie a voi per avermi affiancato nella telecronica un ringraziamento e un saluto anche da parte mia oh mamma mia ma che cazzo sta mamma mia guarda grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti luis gustavo ha fatto serio la parezza da merita il miglior gol vediamolo vediamolo vediamo guarda in the middle ha detto ciao ma di percorso del lentissimo non mi ricorda un po più veloce visto mamma mia gallo certo pluto porco delusava male ma fa ma mi ha fatto un volo di assist mi ha preso pure più del tuo siamo ragazzi è possibile bombardato bombardà ma che cazzo stai attivo ma che partire hai visto ma c'è stata equilibration beh ammazza 5 ma il mio non ha fatto un cazzo praticamente ha preso solo i due gol tu almeno un po parato 2-3 infatti è un po' strano un po' strano Grazie.